Che sta facendo? Vuole guardarmi dritto negli occhi? Ce l'abbiamo in pugno. Scinson è convinto di sapere esattamente che cosa farò. Jordi, devi tutta l'energia ai motori. La prenda dal supporto vitale se serve. Mi dia tutto quello che ha. Pronti, capitano. Ci stanno chiamando. Diana, stia pronta. Apra un canale. Spero che tu sia ancora vivo, Januk. Oh, sono vivo e come? Non credi che sia giunto il momento di arregarsi? Perché il resto del tuo equipaggio dovrebbe morire? Scinson, non credo di averti mai raccontato del mio primo esame quando ero in Accademia. Vuoi sapere come mi giudicarono? Troppo sicuro di sé. Capitano, per quanto mi piaccia sentirti parlare, io credo che... Al mio ordine, Diana. Tutti i ponti pronti all'impatto. Attivare. Vivare a sinistra! Capitano, adesso, non sei. Capitano, adesso, non sai. Oh Oh